L'incontro dove la gente viaggia e va a telefonare con il topobarba che sa di pioggia e la ventiquattro ore perduti nel corriere della sera nel valle vienì di una cameriera ma perché ogni giorno viene sera? A volte un uomo è da solo perché in testa strani tarli perché ha paura del sesso o per la sbaglia di successo per scrivere il romanzo che ha di dentro perché la vita l'ha già messo al muro o perché in un mondo falso è un uomo vero Io delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi Vediamo se si può imparare questa vita e magari un po' cambiarla prima che ci cambi lei Vediamo se si può farci amare come siamo senza violentarci più con librosi e cilusie perché questa vita stende e chi è stesso dorme o muore oppure fa l'amore ci sono uomini soli per la sete d'avventura perché hanno studiato da prete o per vent'anni di galera per madri che non li hanno mai spezzati per donne che li hanno rivoltati e persi o solo perché sono dei diversi Io delle città e dell'immensità se è vero che ci sei e hai viaggiato più di noi Vediamo se si può imparare queste donne e cambiare un po' per loro e cambiarle un po' per noi Ma io delle città e dell'immensità Magari tu ci sei e problemi non ne hai Ma qua giù non siamo in cielo e se un uomo perde il filo è soltanto un uomo solo Grazie 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 Grazie